chino salta rosso nero e chi non salta rosso nero e chi non salta rosso nero e chi non salta rosso nero ragazzi più 4 3 a 0 e più 4 muti segnate solo su calci piazzati 3 a 0 3 pappine è a casa è a casa apro parentesi voglio salutare voglio salutare andrea formentin che mi scrive sempre che sempre che ero in ansia io ero tranquillissimo milanese e voglio salutare anche un milanista alessandro di ruzzo che anche lui soltanto mi scrive che mamma mi aspetta che mi devo ancora che bello che bello alessandro di ruzzo voglio salutarlo perché lui invece è un milanista che mi scrive sempre complimenti 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 per chi complimenti complimenti vanno a noi ma noi anche se anche se anche se sembra che c'è un mal di gola questa sciarpa facciamo così anche se sembra che sembra che abbiamo avuto un momento di crisi e bisogna anche dirlo bisogna anche dirlo diciamo dal dal minuto 35 del primo tempo fino a inizio secondo tempo poi secondo tempo poi ha iniziato il minano ha iniziato che andano vicino micidiale ha fatto una partita da 9 minimo 9 in pagella mio 9 in pagella ha fatto dei miracoli che veramente ci hanno salvato il culo ci hanno salvato il culo perché avessero segnato lì che eravamo ancora noi 1 a 0 partito ancora in bilico in minano poteva tranquillamente appunto puntare anche a vincere poi nel momento peggiore abbiamo insegnato ma ricordiamoci il primo gol così all'istante all'autaro poi da solo tranquillo e avuto tante varie occasioni potevamo anche già dal sul 2 a 0 nel primo tempo però però vedete poi il calcio com'è quando sembra che sei in difficoltà poi ti arriva ti arriva quel gol insperato perché c'era un punto che sembrava non riusciamo più a fare niente eravamo eravamo chiusi nella nostra metà campo e però poi dopo il 2 a 0 di lautaro diciamo ha ha sbloccato un po' la situazione diciamo che mina poi dopo quella dopo il 2 a 0 nostro non ha più fatto niente di così esaltante il 3 a 0 poi lukaku madonna lukaku è forte madonna che forte da metà campo è partito da metà campo da metà campo da metà campo nel l'angolino madonna che forte nukaku ragazzi che forte nukaku ragazzi madonna che parte perisici riconoscibile perisici faceva il doppio passo difendeva crossava in modo decente mi sto parlando in modo di perisici riconoscibile non è lui non è lui qualcuno lo sta telecomandando con con il controllo di playstation incredibile ragazzi incredibile incredibile grandi tutti devo dire che comunque l'atteggiamento dell'aprile è stato proprio come come ce lo dovevamo aspettare insomma sono partiti subito a razzo potremmo già andare su un 2 a 0 nel primo tempo così non l'abbiamo fatto abbiamo sfruttato le occasioni sono poi nel secondo tempo e madonna mia più quattro ragazzi finalmente siamo 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 più quattro ma saranno dodici anni forse che non eravamo così tanto avanti in classifica perché siamo stati primi in classifica forse un cinque sei anni fa ma eravamo sempre più uno più due non chissà dove più quattro è già è già tanto è già tanto comunque bravi ragazzi sono davvero contento davvero contento perché sinceramente cioè non avevo non ero tanto in ansia più che altro per una partita in sé più che altro in ansia cioè per di perdere perché dicevo questa qui mi sa che poi sai comunque il minan è sempre anche comunque un po tosto ha avuto delle occasioni che di rimpalli che comunque ibra ad ogni modo riusciva sempre a creare occasioni quindi il golletto forse a partita in minan forse un golletto ci poteva se devo ammettere devo ammettere un golletto in minan sono meritato assolutamente se no addirittura due potrà farlo però dall'altra parte dall'altra parte anche lì ha avuto una serie di occasioni primo tempo che clamorose le ha sfruttate poi tutte nel secondo e lukako lautaro sono una fase una fase migliore vedete ragazzi attaccanti hanno le fasi che noi abbiamo abbiamo tutte e due che sono in sincronia no sia nel momento in cui sono in crisi di gol nel momento che sono in in fase realizzativa nel migliore dei modi si fanno gli assist a vicenda doppiette a vicenda quindi praticamente ragazzi un cago stracapo cannoniere non so quanti assist aveva fatto comunque tutti i grandi tutti i grandi veramente sono davvero contento ora ora possiamo goderci ancora un'altra settimana così per pensare tranquillamente al genoa chi è che ha giocato un po maluccio ma forse bare forse barella forse barella ha fatto forse sono gli ultimi 20 minuti la prima partita per il resto della partita forse meno incisivo però di per sé diciamo generalizzando l'inter si è chiuso abbastanza bene a parte quei momenti di crisi però non è che si può dominare un altro minuti dopo tutto ci sono anche gli avversari dopo tutto un milan in crisi milan in crisi ha perso un'altra partita dopo lo spezia tra l'altro un derby che poteva essere decisivo potrebbe essere giro più scudetto io ancora non mi esalto perché comunque mancano ancora 15 partite può succedere di tutto però però bisogna anche dire bisogna anche dire che giocando una partita settimana possiamo anche dire possiamo anche dire che possiamo tranquillamente siamo tranquillamente i favorita in questo momento perché fino fino a poco tempo fa era ancora da vedere però però comunque ragazzi dobbiamo arrivare a questo punto dobbiamo crederci per forza invece per forza è l'ultima spiaggia siamo usciti dalla coppa età siamo usciti alla champions league già a dicembre quindi ora solo su questo possiamo puntare quindi possiamo dare 100 per cento in campionato ora ragazzi abbiamo vinto contro la fiorentina in trasferta per niente facile contro la lazio per niente facile un derby comunque sono sempre i derby che sono da giocare caspita ragazzi abbiamo fatto quanti gol sei set otto gol in tre partite caspita in campionato niente male niente male comunque sono davvero contento ragazzi mamma mia che bello che bello che bello un'altra settimana fantastica abbiamo a zitti li abbiamo a zittiti finalmente sti milanisti che erano erano già erano già gasati no che potevano non tutti e non tutti perché comunque non generalizziamo anche a livello di tifo perché comunque anche tanti tifosi interisti erano già tutti già con te out che per sconfitte già con te out capisci un cazzo intanto intanto sta sta facendo una buona strada e anzi comunque comunque siamo sempre lì siamo sempre lì siamo sempre lì a lottare siamo siamo praticamente a marzo praticamente e siamo comunque sicuramente aprì stavamo primi a marzo cominciando il mese di marzo comunque prima che dovessimo anche perdere col genoa cosa in cui io spero di no siamo comunque primi a priori anche se mi dovesse vincere però ovviamente mi auguro che col geno di fare una partita uguale e di non fare non fare di non avere ricaduto comunque ragazzi godiamo ancora godiamo ancora finché possiamo perché davvero davvero bello davvero bello poi comunque io speravo sinceramente di fare una goleada ulteriore volevo fare un 6 a 0 per cancellare il 2000 il debito del 2001 però vabbè non si può chiedere tutto va bene lo stesso l'importante era vincere come vi dicevo va bene andava bene anche un 1 a 0 3 a 0 secco così veramente è favoloso è favoloso davvero contento ragazzi finalmente finalmente qualche soddisfazione ce la stiamo levando e quindi noi ci vediamo probabilmente domani con il day after milan inter così per vedere altri commenti vediamo un po anche commenti di dei giocatori di conte di tutti gli altri godiamo ancora forza inter questa qui la dedichiamo al grande mauro bellucci che ieri ci ha lasciato grandissimo forza inter avanti così ciao ragazzi ciao